Buongiorno, Rashid. Buongiorno, signora. La figlia di mio fratello del primo matrimonio abiterà con noi per un po'. Certo, signora. Come va, signore? Come deve andare? Sono prigioniero di questa fottuta sedia a rotelle. Se lei mi procura una pistola e delle munizioni, non se ne pentirà. Quanti anni hai? Tredici. Pensi di restare? Papà, la sua madre è in ospedale, te l'ho già detto due volte. Scusami, sono rimbambito, lo so. Mi dispiace. No, ma è già passato, è tutto ok, scusami. Non sono più abituato ad avere una figlia. Vedrai, si sistemerà tutto. Non ti preoccupare. Hai una grossa responsabilità, Pierrot. Sei mio figlio, il futuro padrone. Chiudi la porta, principessa, e vieni a sederti. Perché l'hai fatto? Non lo so. Vi ringrazio, a nome della nostra famiglia, di aver accettato il nostro invito a festeggiare con noi gli 85 anni di papà. Papà, tu ami Anais? Certo che la amo. E la mia moglie. Anche mamma era tua moglie. Piero, come va papà? Tutto bene? Mi sento benissimo. L'erba cattiva non muore mai. No.